C'è un progetto in mano, che facciamo bianco, che facciamo blu, poi la facciamo handicappata, che facciamo bianca, invece no, tutto è blu dove le potevano fare, ovunque, addirittura prendevano la misura al lato da chi lo divieto, vedete, chi lo potevano, che là non ci possono stare le auto, loro hanno preso la misura per dire, vabbè, qua le varie macchine facciamo le varie strisce blu, ma voi vi rendete qua?